Buongiorno, sono uno scrittore. Mi chiamo Sergio Covelli e sto cercando di vendere il mio libro. Se è interessato, io lo vendo direttamente così, porta a porta. Le faccio uno scopo. Buongiorno, sono Sergio Covelli, sto cercando di vendere il mio libro, l'ho scritto io. No, senti, stavo cagando. Ma è carino. No, sai, di a paparazzi. Ma è carino, è fatto... Buongiorno, sono uno scrittore, mi chiamo Sergio Covelli e sto cercando di vendere il mio romanzo. Porta a porta. Sì, li vendo porta a porta. No, se sono mettati fuori porta a porta. Già qua mi ha citofonare almeno 5-6 volte al giorno. Non c'è visto che si nervosizza. Sto cercando di vendere un libro. Vabbè però, cioè, non è possibile, una mattina, una sera, non mi interessa, io tra l'altro leggo pochissimo. Io lo faccio a 12 euro. Mi dispiace, senti, non c'ho tempo, non c'ho tempo a te, sto lavorando, non c'ho tempo a te. Mi dispiace. Re, re, re. Oh, ma... Ah, buongiorno, io sono uno scrittore, mi chiamo Sergio Covelli e sto cercando di vendere il mio libro. È un romanzo. 14 euro. Vendo porta a porta un po'. Le faccio 12. È un bel libro, eh. 10? 9? Le faccio a 8? 9 euro? 8, 8. Glielo regalo! Signore! Mind again! Yeah! Mind again! Mind again! Mind again! Buongiorno! Allora! Io sono Sergio Povelli, questo libro l'ho scritto io, sto cercando di vendere, se è interessata faccio un buon prezzo. No, grazie. No, grazie.